Quest'anno presentiamo due prodotti che sono questo, diciamo, sistema di sedute e tavoli, tavolini e un tavolo basso da caffè. Questo si chiama Uplen, è un po' un ibrido tra appunto sedute e tavolini. In realtà è un po' un insieme di parti morbide e dure che si alternano. L'immagine è anche un po' quella quasi di terrazze sospese. Questi piccoli salti di livello danno quasi l'idea, se vogliamo, di un paesaggio, di un micro paesaggio artificiale. Il secondo progetto che abbiamo sviluppato riguarda un tavolo da caffè, Plain. È costituito da due piani di vetro, una tavola di legno e una colonna d'acciaio. Quindi la struttura e la geometria del prodotto è molto semplice e di facile lettura. Rimane sullo sfondo questa ispirazione, l'idea di una trasposizione su tre dimensioni, di un concetto bidimensionale astratto, a cui mi sono ispirato, pensando a Kandinsky, alle sue lezioni alla Bauhaus, questa idea delle superfici, delle linee, dei punti. Credo siamo riusciti a ottenere qualcosa che è discreto e allo stesso tempo importante, che credo rappresenta anche bene un po' l'anima di living dell'azienda.